Il Consiglio di Coppeto Quindi io non volevo intervenire perché sono senza voce ma cerco di recuperare quel filo di voce per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo ottimo Consiglio Comunale, in particolare la maggioranza, l'opposizione che è restata, mi dispiace che non c'è il Consiglio di Brambilla perché avrei voluto dire qualcosa anche a lui, ringraziare l'assessore Panini, tutta la giunta e dire che ancora una volta dalle motivazioni della Corte dei Conti che tempestivamente ci sono state notificate a 24 ore del bilancio con una tempistica devo dire eccellente, viene riconosciuta la correttezza complessiva dell'operato del Comune di Nava. Tant'è che l'unico debito che ci viene piombato sulla testa è quello del CR8. Quindi, caro Assessore Panini, si tratta di 85 milioni, quindi esattamente la somma del CR8. Quindi noi abbiamo avuto la conferma da questa decisione sbagliata, mi dispiace dirlo, lo dico da magistrato e da sindaco, sbagliata, ed è un errore molto grave, con ripercussioni molto, che rischia di avere ripercussioni molto gravi sulla città, è esclusivamente fondata sul debito del CR8. Quindi un debito odioso, illegittimo, un debito dello Stato che mai ha contratto la città di Napoli, mai nessun Consiglio Comunale, mai nessun napoletano. Abbiamo pagato il terremoto, io avevo 13 anni e ce lo ricordiamo tutti il terremoto, oggi a distanza di 40 anni ci fanno pagare quel debito, che è dello Stato, ce l'hanno fatto pagare col pignoramento e abbiamo retto non so come, ce lo fanno pagare con gli interessi e adesso con la sanzione. Di fronte a questo, da uomo delle istituzioni, le dico e vi dico, cari consiglieri, che io faccio fatica a mantenere il senso delle istituzioni. Di fronte a questo non vi sfugge che se noi non fossimo un'amministrazione talmente corretta ed oculata, con una maggioranza talmente sensibile e attenta, con una squadra, e non mi riferisco alla politica, e mi riferisco ai dirigenti, ai funzionari che stanno da giorni lavorando H24 per evitare il crollo, a un macigno che arriva 24 ore dal bilancio, io credo che non c'è sindaco d'Italia che possa riuscire a chiudere il bilancio. E noi lo chiuderemo, lo chiuderemo perché noi prevediamo tutto, prevediamo anche gli attacchi alla città, però noi faremo il bilancio e poi guardate ve lo dico, lo farò senza voce, lo farò senza forze, lo farò lavorando 25 ore al giorno, si innalzerà da questa città una mobilitazione giuridica, istituzionale, politica e popolare, che mai ha avuto visione nel Paese e nella storia repubblicana del nostro Paese, perché io non lo sopporto questo debito. Lei mi chiede di ANM, caro consigliere, io se non vado adesso da qua, il Consiglio Comunale è in giunta, io non so nemmeno se noi il bilancio lo riusciamo a fare, quindi questa è la notizia. Assolutamente, ma non chiede qualcuno, qua ognuno si alza la mattina e chiede qualcosa, io sono un uomo invece che lavora, invece di chiedere avrei preferito che il Consigliere che ha chiesto, invece di rimanere a camminare nei corridoi del Consiglio Comunale, stava insieme a noi, maggioranza, opposizione, sindaca, assessori, se non mi avete visto per qualche ora è che stavo al quarto piano con il ragioniere e il direttore generale, perché chi vi parla non si fermerà un secondo fin quando non approverà il bilancio cercando di non fare nemmeno un grammo di macelleria sociale, nonostante un ordine costituito indegno che vuol far pagare a questa città colpe che non ha, anzi proprio a questa amministrazione, a questa maggioranza che i commissari aventi, l'emergenza rifiuti, le cricche, il sistema, le ha buttati via. E mi dispiace che manca il Consigliere Brambilla, perché io sono il primo che mi auguro che chi si presenta come nuovo non inizi col reiterare i comportamenti di chi ha prodotto tutta questa scelleratezza. Noi potremmo sbagliare, potremmo fare errori, ma stiamo veramente tenendo questa città, non so come, perché quando stamattina mi sono letto le motivazioni della Corte dei Conti a 24 ore dal bilancio, quello che mi ha detto uno dei più alti funzionari della nostro Comune ha detto, beh, questo ha solo un obiettivo, provocare lo scioglimento del Consiglio Comunale di Napoli. E noi, mi dispiace dirlo, ma questa soddisfazione non gliela daremo, perché io per primo, e sono convinto anche noi, più alzano l'attacco, più alzano l'ingiustizia, più le energie, anche quando non ce le abbiamo, come se fosse una magia, iniziano a infiammare i nostri cuori, le nostre menti e le nostre gambe. Quindi noi non solo non molleremo, vinceremo questa battaglia e sfideremo tutto il Paese a venire su questa battaglia, perché non è la battaglia di Luigi Magistris, della Giunta, di questa maggioranza, è la battaglia degli abitanti della nostra città, che non possono pagare sulla loro pelle un'ingiustizia così grande. E vediamo chi sta con noi e chi si tira fuori.